Due tentativi a vuoto prima del rinvio a data da destinarsi. Il Consiglio Comunale di Riposto non è riuscito, nella seduta di ieri sera, a nominare i componenti della prima commissione consigliare permanente dopo le dimissioni registrate. Due tentativi, si diceva. Il primo non valido, in quanto hanno ricevuto preferenza e soltanto cinque consiglieri, anziché i sei occorrenti per comporre la commissione. Si tratta dei consiglieri Sebastiano Bergancini, Paola Emanuele, Mariella Di Guardo, Alfredo Scadia e Rosario Caltabiano. Il secondo tentativo ha registrato un numero ancora inferiore rispetto all'occorrente. Quattro consiglieri, Bergancini, Caltabiano, Emanuele e Di Guardo. Commissione quindi che non può essere costituita e voto rinviato. I lavori sono quindi proseguiti con gli altri punti iscritti all'ordine del giorno, il principale, relativo al piano regolatore generale, il cui iter è ormai diretto verso l'approvazione finale. La soddisfazione del sindaco Enzo Caragliano per il lavoro svolto fin qui dal Consiglio. È stato un lavoro abbastanza fattivo, attento, minuzioso. Sono da diversi mesi riunite sotto la presidenza, la dottoressa Mariella Di Guardo, quale con serenità sempre sa gestire questo Consiglio e credo che i consiglieri del riposto si stanno praticando affinché finalmente si possa dotare il Comune del Riposto di un nuovo piano regolatore che è già scaduto da anni e così possiamo togliere tanti vincoli, reiterarlo o meno, questa è la volontà del Consiglio. Quindi in questo senso il Consiglio è stato veramente provvido. Spero che nel giro di qualche altra seduta, quelle che sono gli ementamenti, cioè le richieste fatte dai cittadini, sia la prima parte che con la seconda parte, che abbiamo fatto una seconda pubblicazione per avere l'eventuale richiesta dei cittadini, chiaramente opposizione al piano regolatore, sono stati quasi del tutto esaminati. Un importante atto non soltanto politico, ma anche per lo sviluppo del Paese. Certo, un importante atto sia politico, quindi di fatto che do l'ota a tutto il Consiglio, ma anche per il Paese, perché il Paese finalmente si toglie tanti vincoli e la gente che fino ad adesso è stata un po' compressa da quelle che sono le rettività dei terreni, potrà avere un ulteriore spazio. Spero che anche gli oneri di urbanizzazione verranno aggiornati così come si spera, che verranno ridimensionati, per cui si deve essere una ripresa dell'edilizia e quindi dell'investimento sul territorio da parte di quant'altri che vogliono coscire o realizzarsi la propria casa. È chiaro che abbiamo fatto in modo tale di essere morigerati, non ci deve essere una cementificazione a tutto spiano, quindi deve essere rapportata all'indice e alla richiesta della popolazione.